29 marzo 2018 Milano la sfida al Barcellona, il mercato, il rapporto con Roma, Alisson, che non abbiamo bisogno di vendere, l'adattamento di Schick, la cessione di Sala, io e Baldissoni non Siamo scemi, Cluiverte e il bilancio, ieri il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato a lungo con la stampa estera e ha affrontato a 360 gradi tutto il mondo giallo-rosso Partendo dalla sfida contro i catalani, con la testa Sar sfida difficile, loro sono forse la miglior squadra del mondo E hanno più possibilità di noi Se parlo con il cuore penso che ce la possiamo fare Guardo calciatori e staff e vedo qualcosa di diverso fino a ci che vedevo qualche settimana fa Mercato, i tifosi, oltre che al Barà, pensano per G al mercato dell'estate, finora non abbiamo venduto nessuno e non abbiamo ricevuto offerte L'obbligo di un D.S. ascoltare tutti In questo momento per aggiunto Monchi dobbiamo fare meno e parlare di P.P. Pallotta e i tifosi, il direttore sportivo romanista ha poi replicato a chi gli diceva che Pallotta fosse interessato solo a sistemare il bilancio A Pallotta interessa seguire le regole dell'UEFA, ha investito tanti soldi nella Roma e li investe ancora, ma ci sono delle regole Dobbiamo sistemare il bilancio Il nuovo stadio Saru uno step positivo per il futuro A proposito di futuro, Monchi ha rigettato con forza l'idea che i calciatori non vogliono accettare la Roma perce la cheat caotica e i tifosi violenti, non sono d'accordo con questa descrizione La mia forza è il brand Roma, quando chiamo e dico che sono il D.S. della Roma le porte si aprono Schick e K-L-U-I-V-E-R-T In tema di acquisti, Monchi ha iniziato da Schick Sappiamo che un calciatore ancora giovane ha bisogno di un percorso, ma la qualità ce l'ha Magari quando arriverà 40 milioni come valutazione tutti saremo più convinti che li vale Anche lui non convinto ancora Daniel Vess è stato un anno e mezzo un giocatore normale, e i tifosi non erano contenti Poi diventato importante C, una parola molto importante, adattamento Per Monchi, poi, Baby Kluivert non si adatterebbe bene alla Premier, forse al City, ma non fisicamente forte, anche se tecnicamente fortissimo Sembra più un giocatore per Spagna o Italia Sala e gli altri, in Premier, invece, si è adattato benissimo Sala, su Momo ci sono due cose importanti da capire Primo, la cessione fatta prima dell'effetto nei marchi ha rivoluzionato il mercato, ma soprattutto importante sapere che noi avevamo necessite vendere Sala prima del 30 giugno Con queste due condizioni penso che abbiamo fatto una vendita importante, altrimenti diventa che io e Baldissoni siamo scemi Tapparello, ho sempre rispettato Buffon, ma Alisson diventeri migliore, NDR Alisson, da chi è andato via a chi è arrivato, Monchi ha parlato anche di NDR, dove può arrivare non lo so, a quali detesta e alla voglia di fare cose importanti Queste tre cose sono fondamentali Se diventer un giocatore importante o per club di grandi non lo so Alisson, se penso ad un futuro di Alisson alla Roma per 30 anni dico di no Se invece penso ad un futuro di una settimana dico di S o se mi chiedete per il prossimo anno dico di S Noi non abbiamo la necessite di venderlo Roma, Totti di nuovo in campo, ma con i bambini